Grazie mille. Grazie anche per questa introduzione molto interessante alla tematica che direi ha colto nel segno. Abbiamo un problema globale e nel frattempo è una problematica che riguarda tutta l'Europa e anche il consigliere federale. E' un fenomeno estremamente interessante. Noi esperti delle risorse idriche sappiamo esattamente cosa dobbiamo attenderci, ma la politica ha grandi difficoltà ad adottare le misure necessarie. E questo ovviamente ha anche a che vedere con la situazione complessiva. Non so appunto come venga percepita qua in Svizzera, ma da noi ovviamente la situazione è molto difficile, in particolare per la guerra in Ucraina, le conseguenze energetiche ed economiche. C'è tutta una serie di problematiche da risolvere e ovviamente le risorse idriche a volte vengono dimenticate. E che tuttavia è un approccio estremamente pericoloso. E uno dei motivi per cui sono qui, e quindi Raffaele grazie per l'invito che mi ha rivolto e complimenti per questo eccezionale congresso, è che la Svizzera in molti ambiti ha, e in particolare nell'ambito appunto delle risorse idriche, ha una storia molto lunga alle proprie spalle. E per quanto concerne questo problema della siccità tra la Baviera e la Svizzera c'è forse un parallelismo che possiamo tracciare. Anche noi, esattamente come il canton Ticino, che ha delle aree siccitose, soprattutto nelle Alpi, anche noi in Baviera, nel sud della Baviera, abbiamo poi delle precipitazioni molto intense, ma abbiamo ampie aree nella parte settentrionale della Baviera, in cui le precipitazioni sono al di sotto dei 500 mm, esattamente come nella Giornania del Nord. E quindi ci sono delle aree che sono particolarmente siccitose. In questo mondo noi siamo cresciuti e ci siamo confrontati con essa, abbiamo sviluppato appunto le nostre reazioni in quanto società nel suo complesso, ma credo che tutti ci rendiamo conto che ci sono delle novità, qualcosa sta accadendo. E uno dei motivi per cui sono venuto così volentieri a questo convegno è che vorrei dirvi che il nostro modello in Baviera e nel frattempo anche in Germania, noi abbiamo rilevato appunto questo modello dalla Repubblica federale tedesca, bene queste sono le riflessioni che vorrei presentarvi. E cominciamo quindi con la situazione attuale, e credo che questa sia una situazione tipica per i paesi alpini, e cioè il cambiamento climatico, ovvero il riscaldamento globale, procede nelle Alpi in misura di gran lunga maggiore rispetto alle altre aree. Qui potete vedere appunto le cifre, purtroppo noi ci troviamo al di sopra delle previsioni peggiori costantemente nel corso degli ultimi anni, e questo si riflette ovviamente nella gestione delle risorse idriche, sappiamo che abbiamo situazioni appunto di grande siccità, ed è interessante non tanto vedere appunto le variazioni nella quantità di acqua, bensì nel perdurare di questi periodi di siccità. Io immagino che questa sia un'immagine tipica, ed esiste appunto questa misurazione, misurazioni che vengono condotte dalla NASA, e che valutano appunto questi effetti almeno per tutto l'emisfero appunto boreale, e fino a una profondità di due metri, vedete appunto gli anni di siccità, gli anni siccitosi, stanno aumentando notevolmente. Questa è la cartina della Germania. In Baviera tutto ciò ha delle conseguenze davvero drammatiche. La curva sopra, sono i dati appunto delle nostre acque sotterranee, le acque di falda, e potete vedere che abbiamo costantemente questa curva a destra. Quella azzurra sono appunto i livelli più prossimi alla superficie, e quanto più prossimi alla superficie siamo, tanto più ci troviamo in un ambito appunto di secca, siccitoso, e credo che nel corso degli ultimi 10 o 15 anni ogni volta raggiungiamo un nuovo livello minimo. Allo stato attuale siamo circa al 70%, vale a dire il 70% dei nostri punti di misura prossimi alla superficie sono appunto molto prossimi alla siccità. E ancora peggio è questa curva che troviamo in basso. Scusate, ho sbagliato, ho sbagliato. Appunto la curva più scura è quella dei livelli superiori, e invece la parte azzurra riguarda i livelli inferiori. Qui abbiamo costantemente un terzo delle falde appunto molto basse che si trovano in una situazione tra virgolette siccitosa. Vale a dire la pressione idraulica sui livelli inferiori diminuisce, e se guardiamo il grafico in basso a destra, noi calcoliamo dall'anno 2000 circa questi scenari siccitosi con cliva e appunto la formazione di acque, degli acquiferi, purtroppo è costantemente al di sotto delle previsioni peggiori. E questo ci indica già qual è la situazione. Noi temiamo che non avremo solo a che vedere con i cambiamenti climatici, ma proprio questa curva appunto della crescente siccità che è al di sotto della curva delle previsioni peggiori. Ringrazio sindora appunto gli interpreti, so che è difficile tradurmi. E a questo punto si aggiunge al sistema un ulteriore fattore che non avevamo riconosciuto. L'attuale situazione delle acque sotterranee in Baviera, che rimanga fra di noi per così dire esperti, incute davvero grande timore, perché quasi ovunque abbiamo la falda freatica che continua ad abbassarsi. È quasi ovunque. e ho parlato con i colleghi dei paesi limitrofi e so che in Francia la situazione è analoga, anche nei Paesi Bassi, la Danimarca, anche in Polonia, anche in Ucraina, anche qui, ovunque, esiste lo stesso problema. Quindi c'è qualcosa che davvero non va. e quindi perdonatemi questo salto per così dire quantico. Abbiamo effetti analoghi nella direttiva quadro sulle acque. Stiamo parlando appunto dello stato delle risorse idriche e noi miriamo ovviamente a uno stato buono delle acque di superficie. entro il 2027 dovremo avere raggiunto questo buono stato e non lo abbiamo ancora raggiunto. Siamo allo stato attuale al 20%, eravamo partiti dal 15%, quindi il tutto è proceduto molto lentamente, intendo questo miglioramento. Ma è interessante vedere che se consideriamo i singoli parametri possiamo constatare che abbiamo molti corpi idrici superficiali che col tempo sono peggiorati, mentre altri sono migliorati. Quindi nel complesso c'è stato un maggiore miglioramento rispetto al peggioramento, ma questo sistema è in costante movimento. In quanto esperto di risorse idriche, credo voi tutti lo saprete, siamo costantemente costretti ad andare a superare i nostri limiti, andare al di là dei nostri limiti. E io dico ai miei studenti ogni volta bene, se vi occupate di risorse idriche allora avete il pianeta nelle vostre mani, perché tutta la vita, tutta l'attività economica, tutto ciò che facciamo ha a che vedere con l'acqua. Ed è per questo che noi abbiamo esperti delle risorse idriche e soprattutto noi dobbiamo essere abituati ad andare al di là dei nostri limiti. Perché? Perché da noi, da noi esperti di risorse idriche, ci si aspetta, in maniera particolare appunto, gli Stati. E qui mi rivolgo soprattutto a chi rappresenta gli Stati, chi rappresenta i comuni, ma anche le associazioni che si occupano di questa tematica. Bene, noi abbiamo la responsabilità di generare una idroeconomia che perduri per generazioni. Il mio primo ministro, che a volte ha delle difficoltà a interagire con me, una volta gli ho raccontato, c'era il ministro dell'Ambiente, noi abbiamo richiesto qualcosa, abbiamo presentato delle richieste alla politica che non erano, diciamo, piacevoli per la politica stessa e gli ho detto, fin tanto che noi vogliamo vivere nella Baviera, dobbiamo occuparci di far sì appunto che le acque di falda abbiano la qualità necessaria e il giorno in cui lasceremo la Baviera potremo anche cambiare questo approccio. Poi potremo pompare quanto vogliamo, potremo fare quello che vogliamo, ma fin tanto che rimaniamo in Baviera dobbiamo in realtà gestire le nostre risorse idriche fino all'infinito. ovviamente che se succederà qualcosa fra 250 milioni di anni forse ancora non dovremo pensarci, ma fino a quella data dovremo cercare di adottare un approccio. Quindi abbiamo cercato di elaborare un modello per capire cosa stia accadendo. Sappiamo che ci sono i cambiamenti climatici, poi abbiamo la perdita di biodiversità e nella direttiva quadro delle acque come ho già detto abbiamo portato i corpi idrici dal 15 al 20% in buone condizioni investendo miliardi e i verdi dicono che stiamo procedendo troppo lentamente. Ed effettivamente è vero l'unico sistema, il sistema ecologico pare essere in un certo qual modo stabile. la protezione appunto delle specie, della varietà delle specie, noi sappiamo che continua ad essere esposta all'inquinamento globale e quindi tutti gli indicatori sistemici ed economici evidenziano dei valori critici e questo ovviamente ci preoccupa. un collega, un scienziato che ci ha aiutato molto a descrivere meglio questo sistema è Paul Krutzen, credo che tutti lo conosciate, è un premio Nobel per la chimica, è un fisico dell'atmosfera e circa 20 anni fa ha definito appunto una nuova era e ha detto noi viviamo nell'antropocene e l'antropocene lo spiega come segue, vale a dire gli effetti della presenza dell'uomo sul nostro pianeta sono superiori a ogni altro effetto dalle macchie solari diciamo allo spostamento dei continenti e quindi se io considero questo principio se accetto questo principio dell'antropocene allora accetto anche qualcos'altro e cioè che noi dobbiamo assumerci e abbiamo ci siamo assunti la responsabilità di questo cambiamento quando Sofocle ha scritto Antigone all'incirca 2000 anni fa la natura era la forza prevalente contro la quale noi esseri umani operiamo e già Sofocle aveva detto che noi allora che chi violerà appunto queste leggi verrà punito e mi chiedo appunto come avesse già potuto pensarlo all'epoca ma all'epoca la natura era l'elemento regolatore e quindi se noi ci troviamo nell'era dell'antropocene siamo noi appunto l'elemento regolatorio perché? perché abbiamo delle conseguenze delle ricatute sul sul pianeta quindi se vediamo appunto come ci comportiamo e vorrei menzionare Peter Sloterdijk allora non possiamo consentirci di governare questo sistema di non governare questo sistema in modo responsabile vale a dire l'antropocene se riflettiamo meglio è il compito che dobbiamo assolvere cioè dobbiamo prendere in mano questo sistema noi possiamo anche creare la pioggia artificiale possiamo coprire i ghiacciai e cercare di preservarli o raffreddare anche gli oceani beh potremmo ipotizzare questi tipi di soluzioni magari vogliamo anche lanciare dei razzi nel cielo in modo che il cielo possa diventare più scuro e noi abbiamo meno radiazioni solari beh ovviamente è ovvio per carità di Dio starete pensando lo stesso pensiero l'ho avuto anch'io ma se non abbiamo intenzione di intervenire in modo artificiale in misura sempre maggiore in questo sistema allora un nostro compito è quello di ritirarci quanto più possibile dal sistema in modo che il sistema sia in grado di autoregolarsi o torni a essere in grado di autoregolarsi quindi dobbiamo cercare di ridurre i nostri effetti sul sistema in modo che questo sistema sia di nuovo in grado di stabilizzarsi sono due filoni di pensiero diversi contrapposti che coesistono e che appunto affrontano in maniera diversa questa nuova era l'antropocene noi abbiamo esaminato quindi l'antropocene si può discutere appunto di quando abbiamo iniziato io penso almeno con appunto la macchina a vapore ma io penso in particolare nel periodo della grande deforestazione nel quattordicesimo secolo in Europa qui vedete a sinistra l'immagine che è esposta appunto nel ministero delle risorse idriche austriache e spesso appunto si indica questa immagine perché qui vedete appunto uno dei personaggi che indica appunto questi paesaggi torbiere zone umide e la gestione delle risorse idriche per duemila anni è stato il nostro compito principale questo quello di in qualche modo utilizzare queste risorse disponibili se pensiamo alle inondazioni in Grecia esiste un libro molto anteco che parla appunto della meliorazione di scopias cioè un primo bacino idrico che è stato costruito duemila anni fa in Grecia non è stato più manutenuto e quindi c'è stata questa forte inondazione in Grecia ed è davvero incredibile quindi noi creiamo noi forgiamo la cultura noi approvvigioniamo l'agricoltura di acqua abbiamo approvvigionato di acqua putabile appunto gli esseri umani e questo l'abbiamo fatto con grande successo in Baviera non esiste praticamente nessun corpo idrico che non sia stato alterato abbiamo posizionato drenaggio ovunque eventualmente anche bacini idrici ma un correga della direzione appunto del ripristino appunto dei territori ha detto beh la Baviera è un modello che stiamo via via abbandonando perché 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 noi praticamente diciamo dreniamo l'acqua un po' ovunque e abbiamo drenato un terzo del nostro territorio abbiamo modificato il corso dei fiumi e quindi noi cerchiamo di eliminare l'acqua e voi forse non ci crederete anche nel territorio della Franconia abbiamo 450 millimetri di precipitazioni quindi è l'area più secca e anche qui sono stati realizzati dei drenaggi perché perché altrimenti avremmo avuto difficoltà nel gestire il territorio quindi abbiamo drenato l'acqua però purtroppo abbiamo anche poche precipitazioni e quindi adesso abbiamo grandi difficoltà quindi questo è quanto abbiamo fatto e io temo che ciò sia accaduto un po' ovunque vale a dire queste zone umide so che sono state drenate un po' ovunque bonificate un po' ovunque e questo è quanto abbiamo fatto abbiamo drenato le acque per poter gestire meglio il paesaggio spesso abbiamo eliminato anche le siepi abbiamo eliminato anche i margini boschivi e qui sembra che abbiamo raggiunto il primo punto di non ritorno e qui abbiamo appunto un'immagine di Alois Eisenhuber possiamo immaginarci come si comporta il paesaggio in presenza di siccità quale paesaggio è in grado di generare più ombra o di essere più produttiva qui vediamo in basso appunto quanto è secca questa area quindi indubbiamente posso dire che abbiamo esagerato ma come gestori delle risorse idriche abbiamo compreso questo regime idrico questo bilancio idrico troppo tardi abbiamo iniziato dieci o quindici anni fa a iniziare a riflettere su questa tematica e oggi siamo convinti appunto che questo si ripercuota sulla produttività del terreno allora se pensiamo alla diciamo alla ratura del terreno ai macchinari agricoli che vengono utilizzati Raoul Weiler un collega appunto del Club of Rome di Bruxelles che purtroppo è morto di recente ed è un esperto che lavorava nell'industria chimica e dice molti fitofarmaci non fanno altro che distruggere appunto diciamo la capacità del terreno di contenere aria però è una tematica di cui ci si occupa davvero poco e queste sono le modifiche appunto dell'antropocene a queste possiamo anche aggiungere appunto i fitofarmaci o i nutrienti tutte queste modifiche in loco sono le variazioni prioritarie e primarie dell'antropocene e le variazioni secondarie devo guardare l'orologio perché non vorrei eccedere nel mio tempo di parola bene queste sono le modifiche secondarie che si verificano nel momento in cui abbiamo le conseguenze delle variazioni primarie e tra queste variazioni secondarie abbiamo o alterazioni secondarie abbiamo i cambiamenti climatici con l'alternanza di periodi siccitosi e periodi invece alluvionali e poi abbiamo i fattori appunto secondari tra cui anche le sostanze chimiche che vengono usate a livello globale al mercurio ad esempio se misuriamo il mercurio nell'emisfero boreale non esiste alcun corpo idrico che non contenga mercurio e ovviamente questo è da ricondurre alle attività estrattive in Cina negli Stati Uniti e poi abbiamo anche altre sostanze come i PFOA e i PFAS cioè gli interferenti endocrini e da ciò ne scaturisce appunto un modello che è stato sviluppato nel 2008 in presenza di Paul Kutzen che ha partecipato e che all'epoca si riferiva solo ai cambiamenti climatici ma ci siamo resi conto che non abbiamo a che vedere soltanto con i cambiamenti climatici e questo è appunto la conclusione a cui siamo giunti nel 2008 quindi cambiamenti climatici ed energia è una crisi o meglio appunto una sfida e la seconda quindi 15 anni fa è quella delle risorse idriche le Nazioni Unite all'epoca che hanno partecipato a questo consesso la buona notizia avevano detto è che il cambiamento climatico non è il nostro problema principale perché moriremo di sete prima quindi l'acqua è per così dire il precursore di tutto vale a dire è l'acqua che ci procurerà i più grossi problemi e a ciò si aggiunge anche la biodiversità la creazione Schöpfung questo termine ho utilizzato appunto in tedesco vale a dire esiste la grande teoria di Walker e Salt e ovviamente di altri anche di James Lovelock che dice il nostro ecosistema reagisce in modo attivo a eventuali fattori esterni questo porta appunto alla creazione di nuove specie noi siamo una risposta a questo sistema di essere intelligenti appunto che possono impedire appunto che un meteorite cada sulla terra ma se noi limitiamo la biodiversità innanzitutto è un problema etico e poi in secondo luogo è anche un problema della reattività del sistema stesso e anche in questo caso però non abbiamo compreso appieno tutta la questione chissà se ci sarà una generazione che sarà in grado in futuro di comprendere questo sistema magari 250 milioni fa beh forse ci si renderà conto che finalmente abbiamo un problema dell'acqua e un ulteriore problema che ha a che vedere appunto con noi esseri umani è una questione appunto di equità di giustizia di dignità umana perché queste crisi delle risorse idriche penso a Raffaele alla tua bella immagine che hai mostrato e che riguarda anche noi esseri umani la dignità umana ci sono appunto cose che stanno accadendo e che sono assolutamente inaccettabili c'è tanta sofferenza e Sloterdijk dice che non è appunto sì che l'essere umano diciamo prevale su tutto si tratta della nostra civiltà e della nostra cultura che è in pericolo perché magari gli insetti i ragni continueranno a vivere e poi esiste anche un ambito terziario nella definizione appunto dell'antropocene e che non è materiale bensì che sappiamo che noi ci muoviamo in un sistema complesso Raffaele ne ha già parlato che non è calcolabile non è prevedibile vale a dire noi non possiamo calcolare ciò che effettivamente facciamo possiamo semplicemente seguire i cambiamenti e corrigarli e questo è un diagramma che probabilmente molti di voi conoscete avremo la prossima biforcazione in Germania l'8 ottobre con le elezioni in Baviera e ce n'è tutta una serie perché ovviamente poi le società devono prendere delle decisioni nuove e quindi da un lato abbiamo appunto questo comportamento descritto ma non definito appunto degli esseri umani come dice Hans Peter Dürre è una stabilizzazione dinamica quindi noi possiamo solo creare dei modelli per il futuro ma non possiamo guardare nel dettaglio al futuro noi non conosciamo il futuro possiamo soltanto presagire cosa ci attenda noi sappiamo molte cose ma molte cose non le conosciamo cioè noi modifichiamo questo sistema ma noi per molto tempo non ci accorgiamo quasi quali sono le conseguenze fin tanto che non accade qualcosa di particolare e questo è il sistema che dobbiamo gestire ed è da decenni ormai che collaboriamo con la Svizzera per trovare appunto come reagire e che tipo di approccio adottare nei confronti di questi pericoli quindi esistono solo delle risposte integrali alle sfide olistiche abbiamo appunto due casi che abbiamo esaminato prima in primo luogo appunto la siccità e in secondo luogo gli eventi alluvionali che sono fra di loro interconnessi ed è per questo che abbiamo elaborato due strategie innanzitutto Progevesser 2030 che riguarda appunto l'andamento degli eventi alluvionali e quindi non lo facciamo appunto per soddisfare la direttiva appunto alluvioni o la direttiva quadro sulle acque noi sappiamo che esistono molteplici esempi di rinaturalizzazione basti guardare qua nei dintorni di Lugano vediamo quanto i corpi idrici sono importanti diciamo anche a livello recreativo e esperienziale quindi questa funzione sociale è sostanziale e va sempre considerata e poi un altro progetto che è la sicurezza appunto delle risorse idriche al 2050 e anche qui abbiamo una funzione sociale che viene contemplata 30 anni sono pochi ovviamente abbiamo bisogno di intervalli temporali molto più lunghi e questa è la visione complessiva e questi questa è la strategia complessiva quindi non solo questi grafici fantastici che abbiamo già potuto vedere abbiamo tre gruppi principali siccità eventi alluvionali ed elementi trasversali con 15 sottogruppi e 127 progetti parziali integrati non entrerò nel dettaglio dei singoli ma questo ci consente di adottare delle misure concrete ed attive che vorrei presentare brevemente innanzitutto per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile le previsioni sono chiare ci saranno appunto sempre più periodi siccitosi sempre più lunghi e quindi abbiamo creato una struttura decentralizzata ma anche diciamo un'interconnessione regionale e puntiamo anche a un potenziamento della nostra rete idrica prevediamo appunto un consiglio dei ministri abbiamo stanziato appunto dei fondi per poter potenziare appunto la nostra rete idrica è interessante vedere che non si tratta solo di acqua potabile e quindi di approvvigionamento di acqua potabile ma di far sì che l'approvvigionamento idrico che proviene appunto dalle sorgenti venga disattivato in modo che le sorgenti possano fornire acqua alla natura e noi invece utilizziamo una rete idrica diciamo a lunga distanza poi la protezione dell'acqua potabile dell'acqua di falda poi appunto gli elementi traccia e sostanze chimiche che troviamo un po' ovunque nei corpi idrici ma soprattutto appunto nelle acque di falda che sono in qualche modo alimentate dai corpi idrici ed è per questo che dobbiamo ridurre le sostanze chimiche e questo è quanto prevede anche l'Unione Europea con il suo obiettivo zero emissioni ma noi sappiamo anche che esiste un ciclo idrologico e quindi dobbiamo ottimizzare appunto i bacini e anche le deviazioni idriche dobbiamo garantire appunto strutture irrigue agricole sostenibili perché abbiamo bisogno di un'irrigazione sostenibile in agricoltura diciamo l'irrigazione si è decuplicata e questa è solo l'irrigazione legale noi abbiamo dei comuni o dei distretti in cui il prelievo idrico è maggiore diciamo in termini quantitativi all'acqua potabile che viene fornita ai cittadini e questo continua ad aumentare con l'abbassamento della falda freatica e lasciando la natura corto d'acqua quindi abbiamo bisogno di una strategia di irrigazione che sia sostenibile e ovviamente abbiamo bisogno di una gestione delle risorse idriche quindi non possiamo attingere in misura maggiore dalle acque di falda e poi il miglioramento appunto del bilancio idrico agricolo e questa è una novità cioè noi cerchiamo di raccogliere di trattenere l'acqua meglio in agricoltura con delle strisce ripariali cerchiamo di formare appunto delle conche dove possa accumularsi l'acqua anche delle cave in modo da consentire appunto alla natura di trattenere l'acqua molto non possiamo fare per quanto concerne i cambiamenti climatici ma almeno ci dobbiamo provare questo è un cambiamento di approccio nell'agricoltura in Baviera proprio per consentire diciamo una diciamo di trattenere in misura maggiore acqua nel paesaggio e lo stesso vale anche appunto per diciamo le aree urbane e ovviamente anche sistemi di monitoraggio e di gestione si tratta di un immenso compito noi dobbiamo raccogliere i dati da tutti i prelievi anche i minori prelievi idrici sappiamo appunto che spesso si utilizza l'acqua per la produzione di energia ed è davvero difficile farlo ma questi appunto sono casi singoli di solito si cerca di fare tutto in modo legale di attenersi alle regole e con questo sarei diciamo avrei già affrontato quella che è la parte più importante del del mio intervento ovviamente si tratta anche di comunicare comunicare è estremamente importante sapete appunto che se si mette una rana nell'acqua calda la rana salta subito fuori ma se diciamo la cuociamo lentamente riscaldiamo lentamente l'acqua la rana viene cotta e quindi sappiamo che i cambiamenti che ci saranno in futuro saranno immensi e noi dobbiamo investire in maniera adeguata e dobbiamo investire molto noi ricerchiamo ricerchiamo in materia di riutilizzo delle acque noi anche se non vi sembra forse noi abbiamo davvero un'immensa paura siamo quasi nel panico perché noi cerchiamo appunto di riutilizzare le acque ad esempio dagli impianti di depurazione è vero che poi contengono magari delle sostanze che sono assolutamente dannose ma non escludiamo nulla non ci sono più tabù quindi riutilizziamo tutto abbiamo allo stato attuale un impianto che è in grado di generare la pioggia con questa ionizzazione che funziona da noi a Holzkirchen da noi piove costantemente ma anche questa non è una bella tecnologia ma in ultima analisi la dobbiamo verificare dobbiamo vedere di quali disponibilità disponiamo se davvero dovessimo avere una situazione emergenziale catastrofica io temo davvero che la situazione diventerà estremamente drammatica ed è per questo che non ci sono più tabù perché noi dobbiamo reagire in modo adeguato quindi io devo conoscere quanto più possibile le possibilità e anche i rischi e nel frattempo la Repubblica federale tedesca ha fatto proprie appunto tutta una serie di riflessioni le ha fatte confluire nella strategia nazionale delle risorse idriche quindi si è iniziato a riflettere sull'antropocene sulla nuova era si è accettato il fatto che occorre un nuovo modello ebbene questo è il modello per il futuro quindi garantire l'approvvigionamento di acqua potabile il rafforzamento e il ripristino appunto dei regimi idrici vicini alla natura un adattamento delle infrastrutture idriche e ovviamente acqua pulita in tutti i corpi idrici ora al termine del mio intervento mi chiedo quali domande non abbiano ancora trovato una risposta innanzitutto le precipitazioni noi ipotizziamo sempre che le precipitazioni non siano influenzabili per esempio attraverso i cambiamenti climatici ma in realtà esiste anche una teoria fisica e cioè che il paesaggio crei l'acqua nella foresta pluviale è un pensiero assolutamente accettabile anche in Siberia e nelle foreste boreali ma cosa accade appunto da noi nelle nostre foreste e c'è un gruppo di fisici da non trascurare che dice appunto che sostanzialmente la pioggia cade laddove ci sono le foreste non il contrario quindi se questo è vero noi abbiamo un'ulteriore possibilità di sostenere appunto il bilancio idrico interno gestendo appunto il territorio tutto ciò che è verde contribuisce alle precipitazioni non i terreni agricoli e magari una volta avete anche voi corso a piedi nudi su un prato e sicuramente avevate i piedi bagnati e questo perché perché ovviamente l'erba trattiene la pioggia a volte fino a 200 millilitri con precipitazioni di 500 millimetri è davvero una quantità rilevante ed è ovvio che anche le piante reagiscono in maniera diversa e questo è un aspetto quindi dobbiamo ricercare di più sul ruolo delle foreste se le foreste sono in grado di generare precipitazioni e il secondo quesito è quanto riusciamo a risparmiare attraverso una migliore gestione delle risorse idriche cosa può fornire un paesaggio un paesaggio diciamo arbustivo ad esempio quindi la gestione del paesaggio è estremamente importante basti pensare appunto a quanto si discute qua in Svizzera delle trote che stanno morendo ma non si parla di strisce ripariali in Baviera abbiamo centinaia di chilometri di corsi d'acqua e potremmo creare delle strisce ripariali in modo che si crei ombra sui corpi idrici questo riduce appunto la temperatura e riduce appunto l'evaporazione dell'acqua e così via e quindi sono delle diffressioni che vanno fatte e ovviamente dobbiamo anche cercare di conservare i lombrichi nel terreno quindi è importante trasformare i paesaggi drenanti in paesaggi in cui abbiamo di nuovo un accumulo promuovere appunto l'ombra quindi creare delle strisce ripariali con arbusti alberi e così via poi l'indicatore livello delle acque di falda è estremamente importante il parametro principale appunto è il livello delle acque di falda e quindi la pressione dobbiamo gestire le acque sotterranee in modo che il livello venga mantenuto costante per evitare dei disastri come li abbiamo avuti appunto in Spagna o in Italia con un abbassamento della falda di 100 metri ma è impossibile occorre intervenire occorre gestire quindi al meglio le risorse idriche bisogna evitare il prelievo perché non ha alcun senso se la falda si abbassa di 100 metri poi zero emissioni come obiettivo generale e a questo sta lavorando l'Unione Europea poi ecosistemi resilienti beh si spera che gli ecosistemi siano in grado di stabilizzare la situazione e forse anche voi avrete qualche consiglio da fornire per gestire al meglio le risorse idriche e per favore rimaniamo in contatto continuiamo a scambiarci idee e suggerimenti in modo da procedere rapidamente perché le mie previsioni sono che i tempi sono davvero stretti grazie dell'attenzione Sì grazie Martin davvero molto interessante forse ci sono domande abbiamo tempo abbiamo ancora tempo per un dibattito io avrei diverse domande da fare il suo intervento è stato veramente molto interessante e sto cercando di vedere come trasporre questa tematica al contesto svizzero una prima domanda è com'è la cooperazione o meglio l'interazione tra Monaco e Berlino perché anche noi abbiamo la stessa situazione noi abbiamo appunto un paese abbiamo i cantoni sì effettivamente in ogni stato federato questo è un quesito estremamente importante abbiamo trovato la soluzione cioè la lava che è la diciamo il gruppo di lavoro risorse idriche in cui siedono appunto tutti i cantoni svizzeri e gli stati federati tedeschi e ovviamente anche tutte le autorità federali e confederali sanità navigazione e così via e qui sostanzialmente noi predisponiamo diciamo una buona parte di quella che è la politica in materia a livello nazionale abbiamo uno scambio quindi tra il livello federale e il livello dei cantoni e degli stati federati poi abbiamo anche un'organizzazione orizzontale abbiamo delle comunità per così dire dei corpi idrici fluviali con cooperazioni con ad esempio altri paesi penso ad esempio al lago di Costanza e quindi abbiamo un livello sia verticale che orizzontale diciamo di condivisione dei lavori magari qualcuno vuole fare una domanda qualcuno del pubblico grazie la mia domanda sarebbe la seguente lei ha detto che appunto il livello federale e il livello dei lender collaborano ma questo avviene a livello politico anche a livello appunto di uffici federali e regionali bene tra le autorità e il ministero abbiamo una collaborazione molto intensa e ovviamente cooperiamo in un'ottica o in vista della conferenza alla quale poi partecipano tutti appunto a livello federale e il livello degli stati federati ma a volte nella politica ci sono alcune difficoltà perché magari i ministri dell'ambiente hanno una determinata opinione ma il ministero delle finanze non prevede appunto degli stanziamenti quindi c'è uno scambio una cooperazione molto intensa ma fino al indubbiamente arriviamo fino al livello dei ministeri dell'ambiente tutti i ministri approvano sostanzialmente tutti i decreti tutte le deliberazioni la grande difficoltà è poi di spostare questa attività dal ministero dell'ambiente e portarla alla politica generale ecco lì abbiamo qualche difficoltà perché c'è una scarsa disponibilità appunto ad investire nelle risorse idriche non so se avete anche voi in Svizzera lo stesso problema ma molto spesso quando il prezzo dell'acqua aumento del 20% ci si arrabbia ma nessuno conosce il prezzo effettivo perché si tratta di importi estremamente contenuti all'Octoberfest pagate 15 euro per avere appunto un litro di birra e in media appunto un bavarese ne beve 4 quindi paga 60 euro e questo è il canone dell'acqua di diversi mesi la bolletta dell'acqua di diversi mesi sì ci sono altre domande? grazie per la presentazione molto interessante il dibattito sull'antropocene qualche settimana fa una pubblicazione settimanale inglese di tipo economico molto importante segnalava che a proposito di questo dibattito l'antropocene non era tanto importante come e quando è cominciato ma come andrà a finire evidentemente in questo nel come andrà a finire noi abbiamo qualcosa da dire e dava al ruolo dell'economia un aspetto molto importante gran parte delle misure che lei ha indicato comportano anche a livello economico gestione del territorio limitazione dei diritti d'uso del terreno alcune restrizioni che saranno abbastanza pesanti quindi abbiamo visto il livello federale il livello locale come interagiscono però è interessante sapere come concretamente si può immaginare che queste misure siano tradotte in qualcosa che il mondo economico nel quale il nostro contesto evidentemente molto importante potrà cogliere e implementare queste misure grazie 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 innanzitutto per questo commento davvero saggio il quesito principale è come andrà a finire tutto ciò questo è il grande quesito che ci dobbiamo porre e io ritengo io diciamo posso parlare liberamente perché ho molta esperienza quindi questa tematica delle risorse idriche deciderà il nostro destino e quindi non esiste un diciamo un compito più importante di quello appunto di gestire le risorse idriche le abbiamo gestite in maniera erronea sbagliata e di questo appunto ne pagheremo le conseguenze ho tutta una serie appunto di paesi per i quali prevedo e voglio vedere appunto come la Spagna riuscirà e anche l'Iran quindi decideranno davvero le risorse idriche il destino il futuro di questi paesi e quindi dobbiamo investire possiamo già fare molto e ovviamente costerà miliardi ma d'altro canto ogni politica a livello mondiale dice appunto che l'agricoltura è estremamente importante alcuni stati sono delle agroeconomie o delle agrocrazie è vero abbiamo bisogno appunto di generi alimentari ma esattamente come per l'approvvigionamento di risorse idriche ed energetiche devo provvedere alle infrastrutture necessarie quindi la nostra raccomandazione è che per l'irrigazione debba essere investito esattamente tanto denaro quanto per l'approvvigionamento di acqua per poter pompare l'acqua laddove è necessaria dirigerla laddove è necessaria perché gli accumuli di acqua naturale devono essere coadiuvati appunto da arbusti e da vegetazione per poter trattenere l'acqua quindi è ovvio che tutto questo richiede degli interventi sul paesaggio che sono costosi ma quanto ci costerà se noi non saremo più in grado di produrre localmente ci costerà molto di più ed è per questo che noi in quanto esperti e gestori delle risorse idriche è importante di dire ai politici quali sono le possibilità che abbiamo cosa possiamo fare se poi in ultima analisi potremo ostacolare le catastrofe io non so se riusciremo a farlo però so appunto quanta acqua assorbe l'agricoltura che ruolo importante hanno le foreste e dal bacino amazzonico possiamo vedere chiaramente quanto sono importanti le risorse idriche però non so se riusciremo ad evitare le catastrofe ma è l'unica cosa che possiamo fare quindi creare delle infrastrutture per una irrigazione sostenibile mantenere appunto il livello delle acque sotterranee perché sappiamo appunto che la natura ci fornisce appunto le precipitazioni la natura è fatta di fauna e di flora ma soprattutto ci dà l'acqua per poter sopravvivere queste risorse idriche noi le dobbiamo mantenere mantenendo invariato il livello delle nostre risorse idriche e poi dobbiamo appunto cercare di riforestare ma sono grandi investimenti io ritengo che comunque valga la pena di dire alla politica sì e questo è difficile perché spesso ci viene chiesto c'è qualcosa che possiamo fare i politici mi avrebbero ucciso quando gli ho detto dobbiamo cambiare appunto il bilancio idrico in agricoltura ma la buona notizia è che noi possiamo fare qualcosa cioè noi non siamo inermi noi possiamo fare qualcosa per reagire possiamo mantenere le foreste montane e così via però incomincio a ripetermi l'aspetto positivo è che noi possiamo fare qualcosa quindi lo dobbiamo dire ai politici e suggerirglielo grazie grazie martin quindi riconosciamo quello che è il valore delle risorse idriche cosa che non è chiara a tutti sì spesso diciamo l'acqua viene dalla natura e non costa nulla e quindi possiamo usarla possiamo utilizzarla per produrre per creare benessere economico ma ovviamente ha un valore e questo valore deve essere reso noto anche alla politica quindi le misure di comunicazione anche queste sono importanti perché mi sembra che questa sia una tematica importante prima appunto l'esponente del governo ha detto sì occorre il gran consiglio adottare una legge ma non è una tematica così interessante perché è l'acqua sì sebbene da noi accada qualcosa davvero di straordinario cioè le persone ascoltano le persone l'hanno capito e la tematica appunto del bilancio idrico del paesaggio viene rigettato per così dire dalla politica ma gli agricoltori chi pratica l'agricoltura vuole sperimentarlo perché hanno capito il problema io credo di poter essere ottimista cioè le persone hanno compreso l'importanza delle risorse idriche perché le risorse idriche sono sempre state importanti e quando notano qualcosa intervengono io credo che se appunto lo esprimiamo in modo chiaro e comprensivo e noi abbiamo la responsabilità perché noi comprendiamo il sistema noi esperti delle risorse idriche comprendiamo le singole componenti del sistema se noi siamo in grado di comunicarlo bene io credo che le persone davvero colgano l'essenza grazie a tutti 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 Grazie a tutti